Sapete chi è un anarchico? È uno che tira le bombe. È gente che non crede nella società. Lino era integrale, contrario al lavoro per principio. Eh sì, che sarebbe stato un bravissimo artigiano. Gli passava da campare il suo babbo, che era maniscalco. E lui tutto il giorno? Ma per solito dormiva. La sera teneva circolo all'osteria, cantando i suoi versi sopra la chitarra. Quando chiudevano, passeggiava con gli amici, su e giù di notte, sotto il pavaglione. Sapeva di tutto, aveva viaggiato dappertutto. Ci accompagnava a casa, uno dopo l'altro. Anche me, che ero il più piccolo, mi davano il fiasco da tenere. Finché restava solo e montava sulla rocca a godersi l'alba. A sole alto si coricava. D'estate ci portava a sentire il canto dei grigli ai maceri della canapa. E migrò chissà dove. Tornò. Più ribelle e squattrinato che mai. La cominciava a invecchiare. Suo babbo, invalido, faceva fatica a mantenerlo. E quando suo babbo morì, lì, l'anno dopo, andò a sdraiarsi sotto un platano e si sparò. Bestemmiava ogni sette parole. Voleva incidere un disco di bestemmie per risparmiare il fiato. Andando a letto pregava il diavolo. E non avrebbe pestato una formica. Piaceva alle donne. Aveva il tratto amatorio. Vi annoio? Si è mai fatto venire una malinconia? Guarda che solo gli scemi sono sempre allegri. Cencio chiacchiera, ma non sa niente. L'eredità che doveva toccare alla mamma, una miseria. Ce la vinsero in tribunale i parenti di laggiù, cani, intorno a un osso. Tornare non potevamo. Neanche i soldi del treno. La causa si era mangiata tutto. E poi il babbo aveva paura dello scorno. Così, un po' alla volta, si è adattato a stare là. Sono nate altre sorelle. Io ho lasciato di studiare. Ho preso di cucito dalle suore. Ma quanto tribolare. E gli anni non passavano mai. Dal paese partivano gli emigranti. Più tardi qualche famiglia andò in Abissigna. Tutti sognavano l'America, il Canada. Ma per me, sognare voleva dire sognare la Romagna.